E in questa settimana di fine estate dal profumo autunnale non ci resta che assaporare il profumo di mare con questi bellissimi spaghetti preparati dal nostro cuoco matto. Ciao Giorgio! Ciao Serena! E allora se non andate al mare oppure se c'è troppo freddo non vi resta che cucinare questo buonissimo primo piatto nelle vostre case. E allora carta e penna, arrivano subito gli ingredienti. Servono 600 grammi di frutti di mare, solo polpa, 150 grammi di passata di pomodoro, basilico, due scalogni, un po' d'aglio, peperoncino, sale, olio, origano e un po' d'acqua. Il costo sempre per 6 persone è 14,60 euro. E allora Giorgio iniziamo subito il procedimento che come sempre è molto facile e soprattutto economico, giusto? Certo, sì sì, sempre è roba semplice perché il tempo non c'è tempo, non c'è tempo a perdere. E allora pronti, prendete la vostra padella, mettete i frutti di mare, Giorgio ha scelto solamente polpa, vedete che non ci sono conchigliette, insomma potete mangiare proprio tutto questo piatto dall'inizio alla fine, anche perché è molto profumato. Allora dicevamo mettiamo questi frutti di mare in padella, aggiungiamo il basilico a pezzettini, aggiungiamo la nostra passata di pomodoro. In un secondo tempo mettiamo un po' d'aglio, il nostro scalogno, il peperoncino, il sale, l'olio, l'origano e un bicchiere d'acqua scarso. E lasciamo in cottura quanti minuti, Giorgio? Un quarto d'ora, 20 minuti, non di più. Nel frattempo prendiamo i nostri spaghetti con la classica cottura. Serve un spaghetti particolare o vanno bene un po' tutti? No, no, il po' fa anche le linguine, il spaghetti numero 5, il 7, ognuno li librava da sbizzarrirsi come vuole, ecco, io ho fatto il spaghetti numero 5. Allora date pure i numeri con gli spaghetti che preferite, ma l'importante è che il risultato sia così bello. Spaghetti e frutti di mare nelle vostre case, e allora buon appetito e ci vediamo la settimana prossima, che caro Giorgio sarà già settembre qui è, dobbiamo chiudere con l'estivo e cominciare le ricette dal clima un po' autunnale, anche se ormai siamo veramente abituati. Certo, e fermo le ricette con la zucca la settimana prossima, perché cominciano ad essere le zucche adesso, allora fermo una bella ricetta con la zucca. Allora grazie, ci vediamo la settimana prossima, ciao Giorgio. Ciao a tutti dal vostro Cuoco Matto, ciao.